Ma come te non so, anche perché devo venire a mangiare nel tuo mio lorino so posto, quindi... Vieni qua! Avete mai visto un mito? Eccolo qua, vi presento un mito vivente! Ma non di... ma non di queste cazzate che fate... non è qua l'astica, è la cavatta vera! Per la semplicità, per aver dato lustro a qualcosa di semplice, di quel pacchero che usavano dei militari, ho studiato adesso, per cui questa è usare i prodotti tipici, i prodotti genuini di tutti i giorni sembra quasi la cucina della mamma, però l'olio è il migliore del mondo e se non lo trovo che fa sto pezzo di giornalotto? Se lo coltiva! Non c'è su polli? Vincita a lui tutti i giorni! Perché lui se ti serve il pollo con la riduzione di... eh... di... eh... no, mi sui gamberi con la riduzione... Vabbè, siccome per adesso è teoria, quando assaggio giuro che non mi dimentico mai niente! E ricordatevi che l'uomo senza baffi è come la femmina senza mindi! A forza Giaccarino! Grazie per essere venuto! Grazie! Grazie! Riempi questo... questo festival è di onore, di gioia, va bene così... Ma devo parlare con Giaccarino, non è chiesto di Cipolliunie, caro! Eh... allora, continuiamo con gli esperti! Gli altri tutti velocemente, abbiate pazienza, perché li conoscete già! Ciro Tortorella, Gerardo Sacco, Raffaella Afghanistan... non sto scherzando... Raffaella Angstmann... Grazie!